e benvenuti ragazzi sono qui con questo nuovo video volevo far vedere come grandina qui ragazzi madonna mia come grandina ecco ora un po si è calmato raga guardate giù guardate c'è tutto bianco di grandine raga oh vabbè raga ma che dirvi raga anche dirlo e ancora continuo a non so se vedete ecco ha smesso spero che questo video vi sia piaciuto guardate che bello che grandina raga guardate guardate lì ai bordi guardate tutto bianco c'è ma tu quanta grande guardate lì nella terra guardate vabbè raga ma che dirvi ma che dirvi ma vediamo sulle auto ma sulle auto non c'è niente e guarda guarda ora mi cade il telefono giù st'auto scasciata che è qui da un anno raga ma ho paura che mi cade il telefono sotto ciao 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 ciao